Ma sei ottimista? Da questa parte, Presidente, per favore. Qui, 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 qui. Dimmi solo se sei ottimista. Ottimista, ottimista, su tutto. Su tutto? Anche Lukaku? Grazie. Veniti, dai. Va bene, va bene. Però completeremo la squadra. Completiamo la squadra in fretta? Sì, sì, sì. Va bene. Ciao, ciao. Come tu dici sempre, se ci sono delle opportunità le cogliamo. Mi dici se ci sono. Ci sono, ci sono. Ci sono? Coglieremo, coglieremo. Coglieremo. Speriamo.